La mia prima parte della vita è stata senza episodi succulenti, però indubbiamente la seconda parte della vita è stata un poco più allegra. Uno degli episodi più succulenti è stato quando una sera eravamo una brigata di amici divertenti con personaggi come Paolo Villaggio, Adriano Panatta ed altri che adesso mi sfuggono. Fummo invitati a Capri dal loro presidente Fellaino a passare una serata con lui ospiti suoi. Naturalmente noi tiravamo a far tardi e lui aveva una cittura e andò a dormire. E noi continuavamo lì e svuotammo di alcolici la taverna e il giorno dopo incontrandovi in piazza Fellaino gli disse Io non sapevo chi invitavo. Mi avete rovinato, avete svuotato una taverna. Quanto caspita avete bevuto? È uno degli episodi che mi diverte perché Corrado non è che è molto largo di me. Perciò si è venduto il Napoli. E perciò si è venduto.